Siamo venuti in circuito qui a Città del Messico, dove il traffico è terrificante, con questo mezzo, l'elicottero. Un po' scettico va al secchi, ci siamo messi le cuffie. Adesso vi faccio vedere la sua faccia. Qua chiede di andare piano al capitano. Ma no! E poi, guarda, paura. Quello resti... Lui è un pilota, va più di 300 all'ora e poi... Un idea micidiale ha avuto, guarda. Avevi detto che non le facevi vedere, come mai? Scusami, solo per Cristiana, era una sorpresa che abbiamo organizzato io e Mara a San Giorgio per te.